Musica 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 Segui la tua anima e vai, la vita va attraversata e la scritta posta sulla parete esterna del Caos, centro artistico, listico e spirituale e della filosofia di Giovanni Cortese, fondatore del centro, insieme a Marta Tamburini Domenica 24 febbraio il Caos si è animato Tante le persone che hanno partecipato a cuore aperto alla festa di saluto Giovanni deceduto a soli 61 anni la settimana precedente Giovanni, in arte e maestro sciaddo, poeta e canzolo orlistico ha lasciato un vuoto nel cuore di chi l'ha conosciuto sempre sorridente e disponibile con tutti in suo onore ieri, dopo la celebrazione della Santa Messa la mattina tutti gli amici si sono riuniti al Caos per condividere il pranzo quindi nella sala interna si è tenuta una breve cerimonia di fronte a un piccolo altare a lui dedicato dove tutti riuniti in cerchio hanno ricordato Giovanni condividendo ricordi e momenti poesia, canti e suono di tamburi hanno accompagnato anche l'accensione del falò con un metodo primitivo dove tutti, uno alla volta, hanno messo a bruciare un legnetto un falò simboleggiante Giovanni, grande aggregatore e fulcro intorno al quale ruotavano le altre anime dopo un momento di silenzio, osservando la fiamma ergersi intorno al susino, si sono svolte le danze sacre tutti uniti al suono della musica e dei canti Giovanni amava il centro che gestiva con Marta a cui, ora che è andato in pensione, era felice di potersi dedicare maggiormente purtroppo è stato strappato la vita da un male incurabile dal quale sembrava esserne uscito ma Giovanni, seppure per poco, la vita l'ha traversata e ora accompagnerà l'attraversamento della vita di coloro che amava e che lo hanno amato, restando vivo nel loro cuore e che lo hanno amato, restando vivo nel loro cuore spirito di fulcro 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 Carry me, carry me, carry me, carry me, carry me home to myself. Carry me, carry me, carry me, carry me, carry me home. Grazie a tutti Grazie a tutti